un buon inizio, i primi 15-20 minuti del primo tempo una squadra rembante, poi l'episodio del rigore a sfavore e poi di lì la partita e soprattutto il ritmo della partita si è un po' rallentato La squadra ha avuto un buon approccio alla partita contro un avversario che sapevamo concedere pochissimo nella fase nostra di costruzione abbiamo avuto un buon approccio giocando la palla da dietro, attaccando forte a sinistra, a destra l'abbiamo fatto in un paio di circostanze con due buoni cross è chiaro che sul cross e sulle palle filtranti la precisione, la determinazione e non andare in fuorigioco ci avrebbe sicuramente premiato di più però la squadra ha cercato di manovrare, di giocare, ha avuto un buon approccio direi anche fino al trentesimo anche sul loro calcio di rigore che è nato da una ripartenza, che è una delle migliori caratteristiche dell'avversario, che sa interpretare molto bene un rigore che noi dovevamo evitare per ripartenza, così pure nel secondo tempo quando ne abbiamo subite tre da nostro corner la stessa cosa invece ribaltando l'azione ne abbiamo avute alcune noi molto importanti, una con Sprocati e una in modo particolare con la vivacità di Cicirelli, lì chi andava in vantaggio portava a casa la partita nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni importantissime, la squadra ha giocato con generosità, con equilibrio ricordando tutte le assenze che avevamo e non mi lamento mai delle assenze ma quando sono tutte di un unico reparto vogliamo vincere, vogliamo attaccare ma devi fare attenzione anche all'abilità dell'avversario che in queste ultime tre partite aveva subito un solo gol, tre partite fa da corner al 95esimo al Frosinone e aveva concesso ben poco al Cesena e soprattutto al Palermo, quindi non era una gara facile, l'abbiamo vista a volte bisogna saper giocare anche sull'episodio, sull'errore dell'avversario quando nel secondo tempo abbiamo attaccato con più forza sugli esterni grazie a tutti grazie a tutti